E' pronta a partire la prima comunità energetica a Ciar Pescara. L'ultimo step è il decreto attuativo del Governo che sarà approvato entro fine mese come recentemente dichiarato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. Sotto il profilo tecnico gli impianti fotovoltaici sono già installati. A Pescara sette le scuole completate, tre lo saranno entro l'anno ed è esaurita anche la complessa parte amministrativa durata oltre un anno e mezzo. Comune Pescara Energia S.P.A. e Arda, associazione regionale da un Abruzzo, sono i primi soggetti della CER a cui naturalmente possono aderire cittadini, aziende ed enti. Sentiamo l'amministratore unico di Pescara Energia Giuliano Diodati. Partiamo dall'ABC. Che cos'è una comunità energetica? Una comunità energetica giuridicamente è un ente del terzo settore che produce energia e distribuisce questa energia sul territorio. I cittadini, tutti i cittadini di Pescara possono iscriversi sul portale cerpescara.it e nel momento in cui partirà questa comunità energetica loro avranno un risparmio nel consumo dell'energia per quanto riguarda il discorso economico, nel senso che loro continueranno a pagare la bolletta per l'energia consumata, ma a fine anno il GSE, che è quello che gestisce a livello nazionale le comunità energetiche, manderà un bonifico sul conto corrente del cittadino direttamente che noi dai calcoli che abbiamo fatto, perché questa è una cosa tutta nuova che tutti noi stiamo conoscendo ora, dovrebbe corrispondere all'incirca al costo di una bolletta bimestrale. Dottor Diodati, lei prima accennava ai benefici economici e si capiscono quali sono, però ci sono anche, credo, dei benefici sociali, quali? Assolutamente sì, produciamo energia pulita, nel senso che voglio dire è un'energia rinnovabile pulita che credo sia assolutamente un aspetto fondamentale di cui tener conto nel progetto portato avanti. Insomma possiamo dire che il futuro sta in queste comunità energetiche, bisogna incentivarle e parlarne anche sempre di più? Guardi, noi l'idea è partita quando io ho ascoltato una intervista dell'ex Premier Draghi in televisione dove sui fondi PNRR 2 miliardi di euro erano stati destinati proprio per le comunità energetiche, quindi noi siamo forse tra i primi in Italia a portare avanti questo tipo di attività, credo che nel giro di breve ci sarà un'esplosione delle comunità energetiche perché in questi momenti di grande difficoltà e poi lo vediamo con le crisi energetiche che si sviluppano in questo periodo qua, dare un supporto ai cittadini, fare qualcosa di importante dal punto di vista sociale e uno degli obiettivi che devono avere le amministrazioni.